ci presenta la partita il nostro partner azienda agricola presia un olio di qualità da oltre 100 anni sulle nostre tavole grazie e cadava ceva il puo grazie 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 perca di Dio aspettiamone ancora uno grazie scusso a qui in vecino come dato rinu male che era un brand caldrino fu no 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 Grazie.